Oggi qui nella Casa della Cultura di Crotone presenta il suo terzo libro Il fotomontaggio con la tecnica dell'assemblaggio. Di cosa parla? Allora parla del fotomontaggio, una tecnica che riguarda le foto praticamente che vengono messe uno sull'altro che possono essere due, tre o anche quattro e che poi si fanno un assemblaggio con un'unica foto. Ecco perché si dice fotomontaggio, quindi un montaggio sulle foto. Come si è interessata appunto a questo argomento? A tal punto di arrivare a scrivere un buon libro? Abbiamo moltissimo la fotografia, infatti se vado in qualche posto a me piace, sono una viaggiatrice, a me piace tantissimo viaggiare sono stata in Thailandia, sono stata in Argentina, in Svizzera c'è Parigi ovviamente che è anche una città molto molto bella e quindi diciamo curo molto la fotografia e anche il video quindi sono amante di queste cose e diciamo che mi considero anche dato che mi piace viaggiare, mi considero cittadina del mondo. Ci diceva prima Telecamere Spente che il suo terzo libro è che tutti e tre i libri sono stati presentati a Casa Saremo in diretta. Sì, io ho presentato tutti e tre i miei libri con la Big Book Sprint edizione di Pacelli Vito e quindi mi sono trovata bene e non ho mai cambiato però ho presentato anche i libri miei al Pertini alla scuola mia dove io ho insegnato per 37 anni e non mi sono mai mossa perché ho voluto diciamo così fare questa cosa per attaccamento verso i miei alunni e anche verso i colleghi non mi sono mai mossa. Come è stato invece presentare in diretta il libro? È stata una cosa bellissima, cioè veramente bella e tutti e tre i miei libri hanno avuto la diretta streaming quindi chi si collegava, io avevo l'intervista chi si collegava vedeva l'intervista in diretta. Come le è venuta l'idea proprio di scrivere un libro? Allora, io amo tantissimo osservare il primo libro è nato da un'attenta osservazione infatti si intitola Poesie improvvisate a rime baciate e tutte queste rime sono nate dall'improvvisazione e quindi per esempio c'è una poesia molto bella che parla del vino e che si intitola Il vino a tavola è divino in cui si presentano i nostri prodotti vitinicoli cioè praticamente come per esempio il vino di Ciro farne a meno non si può col rosso fragolino se non stai attento prendi lo sbronzino e con l'aleatico di Avellino il pranzo è sopraffino cioè tutto così a rima e poi se poi parliamo del Brunello di Montalcino io direi che in ogni pasto ti è vicino cioè è tutto così e poi c'è anche una poesia molto bella sul matrimonio che parla del matrimonio e dice il matrimonio è un grande passo però se il matrimonio non è riuscito tra i confetti e il ristoro si dilapida un tesoro grazie a tutti